Benvenuti in questo nuovo video, io sono Dixo e oggi siamo su The Escapist Un giochino dove bisogna evadere da delle prigioni molto interessanti E ma oggi andremo a fare i DLC di questo giochino Vi invito subito a lasciare un bel like, un bel commentino per farmi sapere qualche consiglio Perché alcune cose le so, ma altre no, quindi eccetto i vostri consigli Iscrivetevi se non avete ancora fatto, andate nella pagina Facebook che trovate in descrizione Perché lì si pubblico le cose in anticipo Anche sulle live tutto che faccio, quindi vi invito subito ad andare Oggi andremo a fare un livellino molto particolare Nuova partitina Andremo a fare appunto DLC Andremo a fare la London Tower Poi la Paris Central Pan, se vi piacerà questo genere E poi andremo avanti e faremo altre giochini, cose molto interessanti Allora, questo nomino qua non mi piace Io proporrei un Salsi Easy Easy In origine del nostro capo salsiccia, sergente salsiccia In Slack.io, vi invito subito ad andarlo a vedere E direi di partire nella prigione di Londra Oh, stiamo dormendo Salsi Ah, un ricco membro della società Ti ha accusato di tradimento Ah, qualcuno ha fatto la spia Infame Quindi non abbiamo avuto altra scelta che saltare il processo E per notarti ho letto qui Che gentili, ma proprio gentilissimi Paga lui tutte le spese Oh, e quella prova che hai consegnato Sembra stata smarrita Guarda caso Buona permanenza Caffo Caffo Un a me Oh, ciccio Allora Io non sono caffo Oh Abbiamo un coso matutino Il colloquio E la riunione E l'appello E l'appello Scusate, scusate Ma guardatevi tutti Ma guardati tu Su già che questi video Cioè Vedrò se questi video Fatemelo salsiccia Ecco, siamo già i primi Tanto non c'ho niente Se farli Come si dice Lung Cioè farli più video Ma senza tagli Oppure un video più lung Un video Ma con tagli Fatemelo sapere voi Io Partirei Con più video senza tagli Vediamo voi nei commenti Comunque siamo stati percositi E siamo alla colazione Molto importante La colazione Dei campioni E anche dei carcerari Quindi direi di fare Un bel giro Poi bisogna fare Appena abbiamo un po' di tempo libero Fare un bel giro A farci amici Bisogna farci qualche amico E vedere come poter evadere Da questa prigione Anche se non sarà facile Vediamo un po' Se abbiamo qualche offertina Poi non so se c'è qualche lavoro Bisogna sapere se abbiamo qualche lavorino Perché se abbiamo qualche lavorino Bisogna farci due soldini Direi di aspettare Vediamo un po' Ora stanno mangiando Stanno a fame Hanno fame È arrivata una certa Allora Si mangia E qua Poi pranzo di Natale Giardiniere Andiamo a fare il nostro bellissimo lavoro Da giardiniere Allora Giardiniere No non è qua Scusate Scusate Giardiniere Giardiniere Qua trovato Trovato il lavorino Allora Sembra una barra da morto Non così Allora Giardiniere Zappa Zappa Non so che lavoro Che faccio il giardiniere Andiamo un po' Prendiamo la zappa Non è qua Dov'è che bisogna Zappare Che io sono pronto a zappare Fatemi sapere dove c'è da zappare Io zappo Dove c'è i pratini in teoria Dove c'è da zappare Non capisco dove c'è da zappare Dove c'è da zappare amico Fatemi sapere dove c'è da zappare Dov'è che c'è da zappare Cacchio bisogna zappare Dove bisogna zappare Mi sa che avrò Cacciato dal lavoro Quasi quasi Qua c'è una bella cancellazione Mi sa che avrò cacciato dal lavoro Perfetto Subito partiamo bene No giusto 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 Aspetta Aspetta avevo trovato qualcosa Qua 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 Eccola qua Eccola qua Ecco trovato 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 Ecco Ne avevo presa una A causa del top Sono licenziato Non è giusto Bastardo Andiamo a pomparci Va che qua bisogna essere pompati Per sopravvivere in questa giungla Di malinconici No Pompati Vai 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 E uno E due E tre Vai così Che è che si mena Noi andiamo a pomparci Siamo dei pompatonsi Ok Fatemi sapere anche se volete Delle live con questi qui Oh Direi partire Vai vai Quattordici Quattordici Via Guardano come aumenta la potenza Divento Mister muscolo idraulico gel Cambiamo un po' l'esercizio Vai qua Aspetta qua E' un po' più di complicato Ok 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 No 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 Che pippa che sono Perito libro Ok Nel periodo libro Io direi di fare un giro Sperlustrativo Per vedere se c'è qualcosa Che ci può interessare E soprattutto il lavoro Perché ci servono soldi Andiamo un po' Andiamo a cercare il centro collocamento lavori Non è quello lì Dove sarà il centro collocamento lavori Per i poveracci della città Che vengono cacciati Qui non possiamo fare giardinaggio Non c'ho il pollice verde Avete problemi Allora qua cosa c'è Ah qua è collocamento lavori Perfetto Disponibile come giardiniere Allora ho capito Accettiamolo dai È sempre Senza di lavorare in area aperta No Essere tutt'uno con la natura e roba così No Fai domanda Ho approvato la tua richiesta Venuto nel settore Fai da parte E verrai pagato Ok Ho capito come bisogna fare Ora bisogna navigare Come il peggiore navigatore del mondo Quindi ora direi di partire subito E fareci un giro esplorativo Adesso bisogna posare questa roba qua Quasi quasi Andiamo a cercare Le prigioni Le prigioni Dove saranno le prigioni Le prigioni Eccole qua le prigioni Eccole qua le prigioni Le prigioni Le prigioni Vediamo un po' se c'è qualcosa Tanto ci lascio queste robe qua Che non mi servono Allora hanno una torcia Molto utile Una forchetta Un pe Una forchetta come Quelli però mi sa che si mi sgamano Direi di aspettare Prima di fare i casini Non so perché non ho preso l'altra Però Va bene così Ora C'è il nastro adesivo L'uniforma La lima La lima come arma Posso mettermela La lima come arma No non posso mettermela Però per il momento Direi di tenerla No aspetta che sta arrivando Ok non sta arrivando La guardia Qua non c'è niente di interessante Facciamoci un giro Un attimo nelle celle Per vedere Se c'è qualcosa di interessante Tanto lì c'è una guardia Deve stare attenti Alle guardie Aia Aia Un kit medico Non potrebbe tornarmi utile Pettine direi che No 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 Ok No 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 Non venire di qua Guardia Non rompermi le palette Io rontero Lama da rasoio Perfetto Come arma Non me la fa mettere come arma Non ci credo Beh direi di non prendere niente Ancora per il momento Perché Rischiare troppo Subito meglio di no Piuttosto Facciamoci un giro Per l'ustrativo Vediamo un po' Saponetta Rotola della carta Piastra di metallo Sarebbe utile Datemi vi consigli Anche cosa potrei craftare Perché Non lo so Vorrei cercare Sulla wiki Però Se ci siete voi Preferisco Quindi fatemi sapere I vostri consigli Cazzo Cioccolato Terra Aia Qualcuno sta scavando No no Non stavo rubando Me ne vado Non stavo Non stavo rubando Sì Sergente Signore Vecchio sergente Io Aspetti La legna Si prendono la legna Come arma E la lancia addosso Qualcuno Non beravano Di venire qua Lama Inchiostro Non c'è niente di interessante Forse è meglio Le palette Quanto c'è la c Andrei a mangiare Qualcosina Allora Andiamo a mangiare Ah tanto come arma Potrei già prendermi Un bel coltellino Un bel coltellino Che Fa sempre comodo Come arma Mettiamo Siediti qua vicino Al nostro bellissimo Amichetto Allora Non abbiamo nulla Di che Allora Vediamo un pochino Cosa possiamo fare L'interessante Ho scoperto Chi ha fatto la spia Su di me Col direttore Distrai per me Le guardie Durante le persone Ultime Per azione Così potrò Ricompensarlo No Rubarlo Che cos'è Copia di worms Direi di no Spettiamo Prima di evitare Casini Che siamo ancora Troppo deboli E Metti in caso Che scoppia qualche Macello Poi noi Ci facciamo Un balai Un balai Oh Ok Ah bisogna Lavoriamo Anche la sera Ne Non era prevista Sta cosa Di lavorare Anche la sera Un attimo Fammi andare a prendere I ferri del mestiere Che qua non era previsto Che lavoravo Anche la sera Io qua Guarda un po' Cosa mi tocca fare Piglia Che qua Se no mi licenzio Non c'ho bisogno di money Allora Uno era solo visto Uno era solo visto Uno era solo visto Uno era qua E l'ho visto Era qua E l'ho visto Non mi fregare Eccolo qua Esattamente Cos'è Erba La vostra erbetta E uno Un po' Un altro Ottimo 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 Ma cos'è Mi si rompe Una volta Che faccio una cosa Non capita Ok Ancora Facciamo tutte le stradine Vediamo un po' Non è facile Cercare Ste robine Da togliere Se si tronzetti Iniqui da togliere Eccone una qua Esattamente Dove la volevo Ok Me ne mancano ancora Due Penso E un'altra qua Guarda Dalla lì Poca storia Ok Ce ne andrebbe ancora una Che però Bisogna trovarla Vediamo un po' Vediamo un po' C'è gente che si mena Che competenza Ho lavorato Me ne mancava una Ma va Caghe È dolce ora Basta Giardiniere Non lo faccio più A me non pagate Andiamo a farci Andiamo a farci Le docce Va La doccia rilassante E direi che per il momento Siamo messi abbastanza bene Mi raccomando La doccia rilassante Che ci scioglie Tutta la roba Che non ci piace E direi che Direi che siamo a posto Un po' Per questo episodio qua Allora Aspettiamola appena Andiamo a dormire E chiudiamo sto video qua Allora Qualcuno è basso Ma no Direi di Oh Allora C'è l'appello C'è l'appello Serale C'è l'appello Serale Me ne vado Voilà Ok Essere puntuali Sei trovato in tempo a noi Oh Tu ciccio guardia Non ti cagli Dare cartel Perfetto Non siamo noi Oh Che roba complicata Dalla londra Qua Muttosto Alla londra Abbiamo tolleranza zero Per voi Vermi Ci chiamo addirittura Vermi Donna mia Sono questi Un po' più stronzi Nell'anno Parco due Stronzi 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 È proprio Schioccare le dita E siete finiti Allora Tu zio Non schiocchi le dita Per nessuno Oh Però comunque Andiamo a dormire Andiamo a dormire No no Andiamo a dormire Andiamo a dormire Nella nostra bellissima prigione Ed eccola qua Chi è il mio compagno di carcere Ok Direi che è lui Allora Non ci abbiamo niente Direi di posare tutto Così Almeno Salviamo la partita Allè Dai Dix è tutto Per questo Pisi è tutto Se vi piace Fatemi sapere Con un bel commento E iscrivetevi Se non l'avete ancora fatto Mi raccomando Non vi perdete Il prossimo video Da Dix è tutto Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti